Ed eccoci qua, salve a tutti, oggi vi faccio vedere come lavare questi due copriretti del letto che ho portati da Milano. Questo è un materiale molto molto delicato, adesso vi insegno io come si fa a lavare questi due copriretti del letto che ho portati da Milano. Allora, scusate, un tappo di detersivo per i delicati che va bene anche per i copriretti, un tappo, tac, si si, lo carichiamo. E il piccolo mi ha mai tenuto per il secondo. Ed ecco che abbiamo caricato i due copriretti. Imposteremo sul programma, cioè l'otto, l'ana, che è un programma anche per i delicati, a 40 gradi e via. E' un'ottima, cioè l'ottima, che è un'ottima, che è un'ottima. E' un'ottima, cioè l'ottima, che è un'ottima. Tri wavelength, cara... Che è un'ottima, che è un'ottima, che è un'ottima, che è un'ottima, che è un'ottima. Oggi è un'ottima, che è un'ottima. E' un'ottima, mentre dovrei vedere il motore, è un'ottima. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info A presto!